Pronto? Mi ha chiamato e ha abbandonato la chiamata. Ciao Mario. Oh, ho faiato. Ah, ecco, perché ho detto che stai libero. Mi sentivo preso in giro. No, no, è difficilissimo. Perché Nanni non ha detto sì e basta? Non so. Porca puttana, ma c'è un aggiornamento da fare su Worms. Vediamo di quant'è. Un giga e nove? Mamma mia, non mi stava sentendo. Nel nasone. Io la prima cosa che ho sentito è nasone. Sbagli. Ok. Ok, ciao. Se ho sbagliato, sono uscito dalla chiamata allora. Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che soppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi, che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione. Bene. Si è disinstallato Discord, scusami. Eccomi. Ebbè, non è possibile. Piacere! Eh, si è mutata. Piacere! Ok, allora, Clarissa, Poli, Poli, Clarissa. No, Mattia, Clarissa, Clarissa Poli. Bel nome Clarissa, sembra quello di un allenatore di Pokémon. Di solito si chiamano così le troie. Ti ho presentato a Poli dicendo che sei una persona che fa tante battute a favore degli uomini. Non la definirei proprio così. Mi stanno sul cazzo le donne, che è diverso. No, perché io ci tengo a chiedere che io sono un uomo. È perfetto, allora. Dov'è Deluxe? Ok, aprite Worms! C'è un aggiornamento da 1.9 giga, Mario. Vabbè, quella è poca roba. Ho provato a farlo, ma i server non si collegano con il downgrade dei bit. Mattia, c'è Pesce che vuole autoinvitarsi. Pesce. Pesce! Come fai di cognome? Porco Dio! Io? Il mio cognome? Sì. Nasello. Nasone e nasello. E il nasello è come il pesce, non so se sei presente. Sì, sì, sì. Of course! Ciao Deluxe! Ciao Deluxe! Ciao Poli! Ciao Mario Sturniolo, of course! Ok, siamo noi quattro, giusto? Mancherebbe Pesce, che gli hai fratto comprare il gioco, ma non l'hai aggiunto. Mario, cosa hai fatto, Mario? Mi sembra un atteggiamento veramente vessatorio nei confronti di una persona che non solo è pelata, ma ha già dei suoi problemi. In più infierisci pure. Cosa? Cos'hai fatto, Mario? Cosa? Cosa? Hai detto Sandro. Cosa, Mario? No, no! No, non ha detto Sandro stavolta. Non ho fatto comprare il gioco a Pesce. Ma chi è? Comunque lui l'ha comprato e non l'hai aggiunto in chiamata, Pesce. Ma una domanda molto importante, ma perché si chiamano tutti Pesce, Cactus? Sono nomi molto inusuali. Sono allusioni sessuali. Chi è che si chiama Cactus, Poli? Me l'ha detto Mario, che un tuo amico si chiama Cactus. Sei, si chiama Cactus. Allora, perché mi chiedi chi si chiama Cactus? Ma cosa c'entra Poli con Cactus? Ma no, dico solo. Ho fatto un casino. È molto inusuale. È un nome un po' particolare, sì. Ma perché gli piace tra biscotte, per quello. Ok, Pesce quindi si è autoinvitato e ha comprato il gioco per poter sostenere che glielo ho fatto comprare in maniera tale che devo giocare per forza, giusto? Hai detto per forza. Poli o Mattia, come preferisci che ti chiami? Ma guarda, come vuoi? Ok, cosa ne pensi del cazzo di Drake? Non l'ho visto purtroppo. Lo vuoi vedere? Me lo mandi su Instagram? Vai. Dai. Ma hai chiesto se hai visto il cazzo di Drake? Sì, Mario non me lo vuole dire. Billy, posso dirti una roba? Hai un po' rotto il cazzo però con questa storia del cazzo di Drake. No, perché tu sostieni che sia un cazzo grosso. Che sia un cazzo nella media, scusami. Ho chiaramente detto che per l'etnia bisogna calcolare una media e in più generalmente ho capito, è per Drake, per Drake. Ah! Drake. Scusami, pensavo si parlasse di Mario. No. Beh, Mario è calabrese ma non... Sono messinese, sono siciliano. Ah, sei siciliano, scusa, non volevo offenderti. Come si fa la partita su Worms? La sto facendo già io perché sapevo già che mi avresti fatto questa domanda, Marione. Finalmente una buona notizia. Però devo chiederti delle informazioni. Stai per chiedermi di pesce? No, beh certo poi se lo vuoi invitare, sì. Povero pesce, però Mario posso dire... Cioè diamo una pessima impressione di noi se quando vengerò inviti solo alcuni. Va bene, invitiamo pesce, invitiamo pesce e... No, 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 adesso sono io che non lo voglio più pesce, scusa. Ma povero pesce. Che cazzo, no, devo imparare pesce. Ragazzi, è pelato. Non era invitato. E non ci fa nemmeno... Mario, dammi dei numeri che devo creare la mappa. Invitiamo pesce. Hai detto figlio di troia deluxe? Invito io pesce. No, pesce. A pesce? Ma non... Ma che impressione stiamo dando alle altre persone di noi, Mario? Ma come cazzo... Ma cosa fai? È invitato. Vieni, pesce. Ma chi è questa persona che sta entrando? Mario, ma mi hai chiamato pesce. Ok, eccolo qui. Ma che cazzo è pesce? Bella pesce, tanto com'è. Ma perché parla come se fosse nella radio di Matteotti di 50 anni fa? Non capisco. Si va a letto. No, no, io adesso vado via. Però ti vorrei dire, Mario, che io questo mese non mangerò perché ho comprato il gioco. Solo questo. No, 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 no. Non ho i tuoi soldi, non ho le tue sub. Vado via, sei stato un pezzo di merda e quello che dicono di te è vero, sei fascista. Vado a letto. Vado a pesce, vado a letto. Oh, aspetta, Mario, Mario, è andato veramente a letto lui però, eh. Pesce se n'è andato dalla chiamata. Ha detto vado a letto e senza dire si va a letto. È il primo che sento dire vado a letto invece che si va a letto. Ok, incredibilmente penso che andrò a cercare pesce nel Discord di Deluxe. Penso che sia sparito anche da lì. Mi puoi dare dei numeri gentilmente? Devo creare la mappa, Mario. 712. Io non ho potuto chiamarlo. 6-1? No. Mario? Uno stronzo, sei uno stronzo. Il dubbio. Pesce? Ma non credo che verrà a quest'ora Giulia a giocare a Worms. Ha invitato Giulia a study time. Sì, vado per via traverse. Ciao Giulia. Cos'è questa chiamata? Ah, ma è entrata quindi. Ma vieni anche tu quindi? Oh, ma perché vengo chiamata? Ciao Giulia, come stai? Ciao bene, e tu come stai? Devo invitare degli amici. Io non so, veramente. E questo è quello che succede quando dai in mano il 5% del potere organizzativo a Mario Sturniolo. Beh, posso dire logisticamente una persona molto preparata Mario Sturniolo, eh. Sì, sì, è certo. Mario Sturniolo, mi dici qual è il tuo nome su Steam che ti aggiungo per favore? Cina Bros. Cina Bros. Cosa sei il Cina? No, bro, non ti chiami Cina Bros. Perché mi prendi in giro? Non mi chiamo Cina Bros. Giulia, chiami Pesce. Ma Pesce? Dove è andato Pesce, ragazzi? Io non gioco se non c'è Pesce. Ma Pesce sta staccando, sta staccando, penso. Ok, annullo Worms. Beh, non è il mio problema Mario, ora hai fatto questo problema. Ora lo risolvi. Va bene, vado a cercare Pesce. È qua, è qua. No, non uscire che è entrato, non uscire che è entrato. Sì, ma io no, eh. No, 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 io non lo voglio Pesce, zi. Non voglio le persone che si avete invito. Hai detto prima che lo volevi. Ah, ma non pensavo fosse lui, pensavo fosse Cactus. Ok, Cactus, no, se non è andato Pesce, perché immagino che l'offenda che gli hai dato da Pesce. Allora, niente, niente. L'importante è che ci sia Cactus, Pesce no, però. Raga, portate rispetto, ognuno ha i suoi. Ma come è Cactus? Bellina, finisci di parlare, per favore, che sta parlando Mario. Come si chiama Cactus su Instagram? Gli scriviamo. Non sono il leader, non sono il leader di questa storia. Io, bello, non sono andato. Qual è il nickname di Cactus? Come si chiama l'anagrafe? Eh, non può sapere solo Deluxe, che immagino non si chiami Deluxe. Cactus? Non penso proprio che si chiami Cactus all'anagrafe. No, Cactus all'anagrafe è Simone, che ha già conosciuto anche Mario perché ha giocato a calcio con noi. Ah, ma è Brucato! Ma no, non Brucato, Simone Basilice. Porca, però ho sbagliato. No, no, non è Brucato, non è Brucato. Ho sbagliato, sbagliato. Hai caricato Worms? Gay. Mi puoi dire, per favore, come ti chiami su Steam? Credo abbia detto Gay. No, ho detto come si chiama su Steam. Ok. Cina Bros. Ma non esce, non esce Cina Bros, non esce. Mario, smettila di dire il tuo nome che dici sempre quando non vuoi farti aggiungere i videogiochi, smettila, dai. No, ma sono Cina Bros. No, no, va bene. Ma che cazzo è il nome? Non pesce, mo. Ma che cazzo sei? Poli, mi puoi dire tu come ti chiami che ti aggiungo? Eh, io non lo posso dire a voce alta, purtroppo è bannabile. Perché c'è il mio cognome? C'è il mio cognome? È bannabile. Te lo giuro. No, e allora non è così. Perché contestualizzata una frase non è un problema. Il cognome è un cognome. Hai ragione, hai ragione. Giulia, mi garantisci che non mi bannano? Sei tu che hai i poteri qua. No, io non garantisco un cazzo. Io non mi la sento di giocare con voi fino a che non mi sento in una zona di comfort per potermi giocare, divertire. Dai Giulia, saldami. Sei pacifico. Io qui ti garantisco che potrai... Oggi sono passati due bann e non voglio fare la fine di queste persone. Io ho una famiglia, non posso permettermelo. Quindi Giulia, per cortesia, scrivi a qualcuno e torna e facci sapere. Adesso scrivo e ti... Ecco fatto, adesso puoi farlo. Ok, allora il mio nome è Polli. Merda? Merda? Sono venuta. Mi è uscita una tipa che ha quasi le tette di fuori nell'immagine di profilo. Non penso sia tu questa. È mia madre, cazzo, Delu, porco due. È Poli Locco, con due C. Poli Locco, ok. Hai due amici in comune, quindi ti invito... Mi hai aggiunto a Cina, purtroppo uno di quelli è Dario Moccio. Cina Bros. Io non ho nessun Cina Bros con cui ci sono amici in comune, Mario. Aspetta, Delux, il problema non sei tu. Il problema è che lui non ha amici su Steam. Quindi magari è quello che ti segna. È che lui non accetta nessuno. Che immagini profilo hai, Cina Bros? La Yellow Pecora. Che è una pecora che non è gialla, però. Giulia, riesce a chiamare, Pesh? La chiamo Yellow Pecora. Non riesce più, Pesh? No, mi è arrivato un ticket che mi bannano. Vuoi sapere la storia della Yellow Pecora? Ma non mi è uscito niente. Oh, Mario, ma barba calva? Vai, portalo! Ma state cercando persone con cui giocare? Giulia, per favore, eh. È già complesso così, eh. No, mi sento io dicendo No, è porta lui, porta lui, porta lui. Ma è un modo. Oddio, ma mi è andato il cazzo di Drake, Billy. Ok. Ah, giustamente, Cina Bros. Ti ho invitato, l'ho invitato. Ne parliamo dopo, mentre giochiamo. Se mai giocheremo, ne parliamo. Ok. Ma Pesh? Ho invitato Pesh, ho invitato Billy. Dovete accettare sia Poli che Mario. Dovete accettare la richiesta che vi ho mandato. Ma Cactus? Non viene, no, Cactus non viene, non viene. E Pesh? Pessimo. Pesh viene. Ok. Non penso, sta raidando. Sta raidando? Sta raidando. Guarda, davvero, Mario, gli hai fatto comprare un cazzo di gioco, adesso lui sta raidando. Beh, guarda. Allora, in difesa di Mario Sturniolo il gioco è costato 3,80 euro. A noi quali 5 euro. Eh, vabbè, se acquistate però, Mario, è importante che tu sappia questo. Ovvero, mi hanno detto che il tizio sta arrivando. Chi? Il tizio, il tizio qualunque, ragazzi. Quello della fumetteria. Il tizio sta arrivando. Ma non sto scherzando, Mario. Che cazzo ridi? Che cazzo ridi? È pazzetto. Sta arrivando, sta finendo. Wufu, arriva. Chi è? Gioia Buki? Ma come cazzo ridi? Ma guarda che adesso non viene più. Adesso glielo spiegherai a... Come si chiama, Nicola? Vieni a giocare, pesce. No, no, pesce no. Smettila. Come no? Ma no, io voglio cactus ma non pesce, ti ho detto. Io voglio pesce ma non cactus. Allora, portate, poi esco dalla telefonata. Che cazzo? Ditemelo subito, esco dalla telefonata. Ragazzi, risistemiamo così, no? Basta. Io vado a giocare a Pokémon e via, dai. Sì, è uscito anche Billy Bell. Billy adesso. No, aspetta, dove vedo l'invito? Visto che è uscita... Allora, shift tab... Lei torno io. Shift tab, vai negli amici. Ok. A fianco... Dove c'è scritto amici? C'è un tizio con una mano alzata e l'elenco delle persone che hanno... Si chiama Benito Mussolini il tizio che l'ha venuto alzata. Si, è anche pelato, ci somiglia. Si può dire. Se gentilmente premi lì e mi cerchi... Ok, ti ho accettato negli amici. Sei il numero uno. Adesso prendi il cazzo e urla. Ma dove vai? Chissà come mai Giulia e Pesce staccano nello stesso momento. Ma è da prima che dico che non voglio giocare. Ma Giulia è qua. Ma Giulia è qua. Sta staccando. Ma non stavo streamando. Stai staccando. Giulia, sei sicura di poter parlare italiano qui? Non è che magari sei tipo undercover boss? È Mario, è Mario Sturniolo. Non è che parlo in inglese? Undercover boss. Quanti vermi mettiamo? Che non so cos'è Worms. Ma come non sai cos'è Worms? Scusa. Ma mi ci hai imitato tu. Mettiamo sei vermi, dai. Vi butto sei vermi. Va bene. C'è stato un malinteso, ragazzi. Vi spiego. Vorrei sapere, sì, mi insegnate a giocare? Parlo a nome di Mario quando vi dico che prende Mario era molto dell'uso del fad di quello che è accaduto oggi su Twitch Italia. Insomma, come ben sapete, purtroppo è venuto a mancare uno, un personaggio a lui molto vicino. Orco Dio, hanno bannato Dario, ma tornerà. Esatto, tornerà, ritornerà. Ritornerà, ritornerà. Forse adesso non è. E quindi Mario non voleva stare solo con me, perché, vabbè, gli sto sul cazzo se qualcuno non ha il coraggio di dirmelo, e ha invitato altre persone. Però a caso. Quindi in realtà lui non vuole giocare a Worms veramente. Io spero voi non l'aviate con me. Quindi non vuole né giocare a Worms né stare con noi. No, no, vuole stare con voi ma non giocare. Prende lui stava cercando di sostituire la Tomodaci con un altro gruppo. Cioè, stai rifondando un regime, praticamente. No, 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 non la definirei così. Come lui? Non la definirei così. La definirei più un... Ha cercato di sostituire delle persone a cui vuole bene con persone che forse potrebbe amare. Ma mi sembra che non sia così, visto che non si sta trovando bene con voi. Sei depresso, Mario? No, non so, non è... No, è... Volevo giocare con... Con lui. Tutti voi. A barba, barba, calva. Vabbè, mettiamo qualunque. Tutti noi siamo rimasti in tre, quattro. Polly, non verrò al tuo matrimonio. No, ma non c'è problema. E... Barba, calva. Lo sto invitando. Posso avere il tuo matrimonio? Purtroppo non è possibile. Mi sono sposato già. E dite... Dite a barba... Dite a barba, 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 dite a barba che lo vorrei invitare anche lui. Cioè, non al matrimonio, nella chiamata. Puoi rifare il matrimonio? Purtroppo è già bene, non si può fare. È la sacra rota, quelle cose religiose. Sono qui imbecile. Tizio, vieni. Ah, vero, siamo in chiamata privata. Sta di cazzo. Tizio, vengo a prendere. Polly, Polly, aggiungimi, accetta la richiesta. Non ho più... Io non riesco più a concentrarmi ultimamente. Sì, rimanete qua, sto arrivando. Non tornerà più, eh. Ma dove va? Ma dove va? Ci tengo a precisare che l'ultima volta che ho fatto così io l'ho risentito un'ora e mezza dopo. E infatti mi... Vabbè, vabbè. Mario Scorniolo. Ma non è che magari fanno un wipe su Tarkov e giochiamo a quello. Io non ho mai giocato a Tarkov. Non so che si dice questa frase, ho detto, la dico. Magari faccio sembrarmi più intelligente. No, perché io gioco a Tarkov e ti avrei detto andiamo subito. Lasciando Mario Scorniolo con Billy Bella, però... Allora, se mi dici che posso imparare velocemente Tarkov, mi sa che procediamo. Beh, non mi sembri... Cioè, nutro rispetto nella persona che sei e penso che tu non sia deficiente. Quindi, con un minimo di capacità di ascoltare, potresti tranquillamente imparare in pochi giorni a giocare a Tarkov. Non giudicare un libro da Tarkov. Allora, lasciamo perdere, dai. Eh, giochiamo a Worms. Eh, vabbè, niente. È distrutto tutto. Allora, ho un'idea. Per fare in modo che Mario parli meglio con il tizio, nel server dell'automodaccio ho mutato il tizio qualunque. In questo modo Mario potrà parlare, ma il tizio non potrà rispondere. Adesso lo smuto, adesso lo smuto. Quindi torna a me. Ok. Ciao Mario. Tutto a posto Mario. Mario. Sono confusissimo. Sto aggiungendo il tizio qualunque. Mario. Ma come stai aggiungendo un tizio qualunque? No, è il suo nickname su internet, tizio qualunque, Clarissa. Tizio qualunque. Sto aggiungendo... Eh, immaginavo. Cioè, lui si chiama tizio qualunque, ma non è che stiamo prendendo proprio uno a caso. È uno in realtà molto specifico. È proprio lui. Comunque, penso di volervi molto bene a tutti quanti in questa chiamata, ma se sento un'altra volta un verme che mi urla sotto perché vi sto aspettando in lobby, mi toglierei la vita io tra un paio d'ore. Ma la cosa che io trovo... Ah, era un verme quello che sentivo. Sì, è un cazzo di verme. Infatti ho dovuto togliere il volume. Io la cosa che reputo incredibile è che tu pensi veramente che noi giocheremo a Worms prima o poi, durante questo momento. Cos'è successo? Non accadrà, quindi? Ma secondo me no, ma conoscendo Mario adesso si inventerà una scusa. Ma qua è che Mario è già qui, eh? Ma no, adesso succederà qualcosa, fino a che non inizia, non crederci. Parti così. C'è ragione. Sto aprendo io comunque. Beh, però, però, fino a... Ok, ok, allora accettami che intanto ti invito, dai. Sto entrando, ma non... Chissà cosa... Mario, perché hai un Pokémon come immagine di profilo? Ho aggiunto il tizio qualunque alla chiamata. Sì, ma è lui o uno a caso? Devo aggiungerlo anche su Steam al tizio qualunque? Eh, immagino di sì. Però come fa a recuperare nessun nickname? Ok, tizio qualunque, come ti chiami? Tizio qualunque. Eh, ma non è giunto così. No, no, proprio su... Sì, anche su Steam. Eh, Gianni? No. Aspetta, mi han detto che... Un tizio qualunque. No, no, fermi. Fermi tutti, sta arrivando Nanni. Cosa? No, Nanni sta furtrollando. Non sto scherzando. Ah, come per dire, è arrivato Nanni. Togliamoci dai coglioni il tizio. Nanni sta furtrollando. No, 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 togliamoci dai coglioni di Mario. Tizio, dobi 10? Sarò onesto con voi. Prevente Mario mi ha detto che stava cercando persone in attesa di Nanni, perché non pensava arrivasse. No, no, no. Nanni, tizio, Deluxe e Billy, potete andarvene. Cioè, vi lo dico. No, non è... Mi ha scritto un messaggio su WhatsApp. Mi ha scritto su Telegram. Ragazzi, non servono le quote rosa. No, ragazzi, allora io ragazzi sono molto... No, te fidati, ho fatto quattro pill, non servono le quote rosa. Io non posso lucrare monigrabbare così in cinque minuti. Ora arriva Nanni e giochiamo tutti e cinque minuti. Mario, mi ritengo offeso dal trattamento di questa serata. Sei il responsabile diretto di quello che sta accadendo. Allora, è naso. Alla prossima partitella di carcetto non giocherò con te, ma contro di te. E mi preparerò per fucilarti direttamente in fronte al posto di centrare la porta. Ragazzi, ragazzi, io vi ho consigliato. Mario, sei il responsabile di questa situazione. No, Mattia, adesso ti calmi e giochiamo io, Dani, Billy, tu e il tizio qualunque. Ma non hanno sballato Sdrumox? Non penso. Scusami, ho sbagliato, mi sono fatto fregare. Non mi fare sperare, per favore. No, perché hai detto Dani, io pensavo a Dani invece a Deluxe. No, la cosa che fa ridere è che io mi chiamo Deluxe e mi chiamo Daniele di nome e Sdrumox si chiama anche lui Daniele. Quindi c'è questa similarità. Ah, con la X finale. Se si chiamassi Clarissa sarebbe solo unica, vedi? È più facile ricordarsi. No, in realtà ci sono un sacco di troie che si chiamano così. Dove sono? È la prima volta che... Vabbè, questo non lo posso pensare io, purtroppo. Chi c'è nella stanza? Dimmi, dimmi a papà. Ma chi sei tu? Che io non sono tuo figlio. Ora ti sputo in faccia. No, no. Ma chi? Allora, Tizio, io ti ho aggiunto, eh. Grazie, grazie. Non mi piace chiamarti Tizio perché non ci conosciamo, ma... Francesco, piacere. Daniele, Daniele. Matti, Tizio, entrate nella stanza di Deluxe. E io no, però. Poli, l'ho aggiunto. Mi manca solo Francesco. Però io voglio fare notare una cosa a Mario, molto importante. Mario, è finita l'ora della Tomodachi, quindi... Mario? Ma c'era un'ora? Eh, io avevo disegnato fino a mezzanotte e mezza. Mario? Che cosa è so? Mario? Daniele? Ho entrato Poli? Ok? Io non so se mi sento di poter... Puoi dire, Mario, che dei duetti di coca che hai in camera? Ne gradirei 5 grammi? Tu de lune gradiresti qualcuno? Questa è l'alert che mi è appena arrivato. Cos'è che stai facendo? No, adesso è molto importante per me capire questa cosa. Mario, perché hai dei duetti di coca in camera? E si vedono anche in cam? Mario, Mario. Siamo d'accordo che non faremo mai più la Tomodachi se non c'è Dario. Per favore. Io ci proverò sempre. E io... Mi dispiace, ma la prossima volta non ti darò più fiducia, Mario. È andata. Ok. E io sono pronto in stanza. Pronto a giocare. Ok. Ci manca solo Francesco che ha aggiunto... Ma quale stanza? Scusatemi, non vedo. E no, è che ti ho aggiunto. Poi ti invito appena sei dentro Worms VMD. Ma come si gioca Worms? Allora... Allora, ci sono sei vermi che si usano armi addosso. Ma non è che sia la cosa... Sì, è giusto. Vince la squadra che rimane viva. Ma viene a giocare. Non mi lasciate con Mario. Ma non giocheremo con Mario. Siamo tutti contro tutti. Ma perché non vuoi stare con Mario o Clarissa? Perché ha 3 grammi di cocaina sotto il naso. Ma come il problema non è la cocaina? Clarissa? Oh, ragazzi, ma avete visto che bello è il mio di Destino di Paldea? Porca puttana. Me lo sono perso. Me lo sono perso. Ho capito, ma hai iniziato tu, eh, però. Tocca dire che Clarissa ha ragione, eh, però, eh. Però dipende... Ma io nella carta identità non c'ho scritto Clarissa. Dipende... Ma porca madonna. Tizio, entra in lobby. Ma entrando! Devo installarlo, il porco dio di gioco. Ehi, tizio, tizio. Hai rovinato la tua figura di 15 anni su internet con quest'ultima bestemmia, eh. Quanto è facile play soldarti ora. Guarda. Quanto tempo ti dà? Dieci minuti. Ragazzi, io vi do un consiglio a tutti. Andate a chiedere rimborso su Steam. Se non lo giocate due ore potete farlo. Purtroppo sono così deficiente che l'ho già comprato da due anni per giocarlo con altri amici. Ok, allora, ragazzi, vi do un'informazione importante. Pesce è riuscito a fare rimborso, quindi potete smettervi di odiarlo. Allora, noi aspettiamo il tizio per le prossime, dai. Possiamo far comprare Worms WMD anche a Cactus e poi non invitarlo? Credo che... No, Poli, tu scherzi, ma credo che Mario abbia esattamente fatto quello che hai appena detto. Perfetto. Lo ha fatto comprare, scaricare e non lo ha invitato. Tant'è che Cactus non c'è qui. Perfetto. No, Mario. Mario, guarda, non ti salvi più ormai da questa situazione. Non dite a Cactus che può fare il refound, però. È questa la parte divertente. Ma soprattutto, chi è Cactus? Eh, ma non basta, si chiamano così giovani. Ma che sei tu? Se non... Ah, ma io sono... Io ho qua, aperto la baracca. No, ma raga, ma dove è andata Giulia? No, in baracca. Giulia. No, ragazzi. Ma dov'è Giulia? E come facciamo a giocare? Eh sì, io non me la sento di stare con queste persone qui oggi, eh. No, Poli, non mi offendere, però, gentilmente. No, vabbè, c'è uno che è un mafioso, l'altro che è calabrese. Porta pazienza. Io... Io sono pronto. Chi è il mafioso, scusami? Eh, guarda, non me lo farei dire. Grazie, Prals. Ah, Mario. La regalate. Grazie, Prals. Eh, porti anche poco rispettoso nelle chat di tutti gli altri. Ringrazio gli abbonamenti, però va bene. Ti chiedo scusa. Tizio. Dimmi. Secondo te, arrivi prima te o Nanni? Io sono pronto. Non me Nanni. Nanni, Nanni non c'è, sta full trollando. Adesso provo a scrivermi. Quanto dura la partita su Worms? Potrebbe durare molto poco. 50 minuti, media. Se mettiamo 5 vermi, probabilmente si ti dura 40 minuti circa. Io sono pronto su Worms. Siamo tutti pronti. Ci tengo a precisare, io 20 minuti stacco, eh. Eh, allora mettiamo 4 vermi. No, stavo scherzando, mettine pure 5, poi è la peggio... No, mettine 4. Andate così, purtroppo. Ma fai così, tagliamo la testa al toro, mettine 8. 4 sono base, eh, 4 sono base, senza metterne troppo. Se mettiamo 8, vi dura un'ora e mezza la partita. Grazie, Raikard. Mario, te la senti? Vi fanno un'ora e mezza. Richard si chiama comunque, non Raikard Richard. No, no. Cosa? Fidati, è Richard. Mario, devi leggere Joy Boy oggi. No, buonanotte Pum Pum. Ok. Mario fa comprare i giochi, non invita e non offre niente. Anche la coca, bruttissima persona. La sconsiglia. Oh, ma che cazzo dite? Io ho messo pronto su Worms. Hanno bannato Dario. Eh? Hanno bannato Dario Moccia. Di nuovo? Ancora? Ma quando rimonte? Ah, perché l'hanno sbannato. E quindi l'hanno ribannato. Ah, no, no. Merda. L'hanno ribannato. Va bene. Quindi non stiamo aspettando Francesco e non deve venire Nanni, giusto? Possiamo partire? Allora, io ho una clip di Nanni che dice che sta arrivando. Quindi io aspetterei. No, ma io non l'aspetterei. Conoscendo Nanni, non credo sia proprio verissimo. Allora bisogna aspettare Francesco. H, vuol dire as known as. Il tizio qualunque. Fai partire. Pensavo fosse Olson o Nass, però sì. Va bene, aspettiamo Francesco, aspettiamo Francesco. Guarda, mi dice, te lo dico subito, un minuto e trentaquattro. Merda. Allora, possiamo pensare di aspettare. Vabbè, nel frattempo posso chiedervi quale mappa volete? A me piace quella del fortino. Quindi modalità fortino? No, no, no. La mappa del fortino è diversa rispetto alla modalità. Qual è? Eh no, sto guardando proprio la mappa. Allora. Si chiama modalità fortino. C'è un castello. C'è un castello. Mario? È questa. Sì? È questa qui, quella dietro. All'ultima volta che hai pippato è quella in cui ci siamo visti? Così. Non ci siamo mai visti dal vivo io e te, Clarissa. Eri pippato come cazzo facevano, come cazzo fai? Ah, vedi che allora aveva ragione. Ma non ho mai pippato e non ho mai visto Clarissa. Entrambe le cose... Io voglio riscoparti. 22 anni, bel ragazzo pugliese e onesto. Scusami. Peccato che il cazzo di tuo padre mi sia interessato prima. Ma che cazzo dici? La sborra di tuo padre mi hai... Posso chiedere? Ma è un commenterciato. Mi hai fatto tutta la mia faccia e ci ho fatto pure la scarpetta finale. Ha fatto... Ma questo era il suono di quando prendi danno su Undertale. Ma io cosa sto a sistemi? Non credo che si parli di sborra su Undertale. No, ma il suono che hai fatto era lo stesso di quando prendi il danno su Undertale. Hai mai giocato a Undertale? Vuoi che te lo rifaccia? No, no, no. Non è un problema. Non è che... È tipo un fetish. Però... Mario, sostienimi. Tu quell'hai giocato. Sì. L'ha detto solo per dirlo e non lo pensa veramente. Come ci si sente a non aver giocato un gioco che avresti dovuto giocare? Cazzo, non ho giocato niente. Ti manca? Francesco, mi aggiungi nel frattempo così dopo... O forse mi hai già aggiunto e non credo. Ti ho già aggiunto. Ma quindi siamo in squadra io e Mario? Vabbè, ma Deluxe è top 30. Ma Mario è morto. Ma speriamo. Pagherei un dito in meno al matrimonio. No, no, ma non siamo in squadra insieme. Basta che cambi, Poli. Che colore vuoi? Io voglio stare... A parte che scelgo che colore voglio essere. Se nessuno può scegliere il colore per me. Pronto a giocare. Facciamo Billy Deluxe contro Cina Poli. Cina Poli. E il problema è che manca comunque Francesco, che sarà da solo. Non ho appena entrato. Ma gioca da solo, Francesco. È fortissimo. Ok, allora lo faccio a giocare da solo. Mi piace questo approccio tuo, Poli, di incazzarti subito con gli opponent per fare un po' come fanno nell'UFC. Ha fatto la gag che l'ha installato adesso, Zilutiolta. Ha fatto una giocata con la granata a fermentazione. Lascia fare, lascia fare. Fai, fai, fai. Poi, la sai la storia dei sardi? Dovresti dire di sì, Poli, così poi continua. Ha detto Poli, ha detto Poli, ho capito Mario. Sì, sì. No. Non la sai la storia dei sardi? No. I sardi erano grandi pastori e per portare le capre in giro mettevano gli stivali di gomma. Gli stivali di gomma rimangono leggermente più larghi sulla parte dove c'è lo stinco. No? Se tu ci infili le zampe, le capre rimangono immobili. Ma perché stiamo sentendo questa cosa? E quindi è un modo per immobilizzare le capre? Tipo, sì. Ma viene adottato ancora o è usato solo nell'antichità, tipo? Non lo so. Io faccio finta che sia una storia del passato, ma nessuno lo sa realmente. Qualcuno di voi ha parenti sardi? Sì. Oh, la ragazza sarda, ma non l'avevo mai sentito. Puoi chiamarli, Francesco? Perché tu sei la capra. Come? Non siamo in bui rapporti. Eccomi qua. Oh, poli, poli, poli. Applica. Pronto. Ci sono. Come? Come? E quindi... La tua vaci. Ok. Vedi, poi arrivano i sardi e ti dicono, mi dissocio. Ma ragazzi, ma non c'è niente di cui vergognarvi. È successo. Anche i tedeschi si sono pentiti. Sta arrivando un anno. Anche i tedeschi? Cosa? Sta arrivando un anno, zi. Veramente. No, no, ragazzi. Ragazzi, è un'ora e mezza che sono qua. Mi stacco i coglioni. No, è posto arrivando Nanni. Zio cane. Ha ragione, Daniele. Io vorrei giocare e basta. Hai ragione. Allora, Nanni. Io ci sono. Possiamo dire, diciamolo tutti insieme. Io ho bisogno che voi votiate, però. Che stiamo volontariamente saltando all'arrivo di Nanni. Per favore, ognuno dica, voto a favore dello skip di Nanni. Voto, voto sì. Voto sì. Vuoi giocare la prossima, dai. Non ho sentito tizio. Ho detto... Sì, sì. Ok, allora va bene. Io non votavo di sì a Nanni. Il Nanni ha detto che sta arrivando davvero e il Nanni sta arrivando... Ma ha scritto in chat adesso. Sto arrivando. Io... Aspettatemi. No. Vabbè, noi abbiamo detto che non lo aspettiamo, quindi se adesso scrive aspettatemi, non partiamo. Ha detto aspettatemi, no? No, ha detto che sta arrivando. Adesso lo scrive anche Dario, che cazzo aspettiamo? Domenica? Sì. Io non vedo tizio qualunque in Worms. Chi sono? Sono dentro. E allora non mi hai accettato. Aspetta, perché non ti vedo? Giuro di sì. What the fuck? Eh no, non ha ancora scritto aspettatemi, Nanni. E allora non lo aspetteremo. Magari però gli stanno girando la clip. Un attimo, dagli un minuto. Tanto ora che arriva tizio, facciamo notte. Cosa stai facendo, Mattia? Eh? Ma mi dici che siamo amici? Perché non ti vedo? Ma sei offline? No. Che succede nel Mario? Perché hai detto che sta arrivando Nanni quando non sta arrivando? Ma me l'hanno detto in chat. Ah. E allora. Ragazzi, mi sa che dovete invitare voi Francesco perché non può. Nanni Twitch, aspettatemi figli di Troia. Ok. No, no, Poli, Poli, Poli. Poli, ma quello lì è un emote. Poli. Scusatemi ragazzi, non sta arrivando Nanni Twitch. Scusatemi. Non volevo darvi questo. Scusatemi. Poli, in questa cosa poteva accaderci Mario Sturniolo, ma tu onestamente. Ma io, 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 io. Perdo un attimino. Non, non, ok, non, 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 non sono, non sono un leader, però vorrei giocare con voi. Poter, mare, ok, perfetto. Perché parli come se ti avessero fatto l'automia. Ho visto, ho visto Francesco, l'ho invitato ragazzi. Grazie. Io ragazzi non so se mi sento di giocare con voi adesso per avervi tradito. Ragazzi, forse, forse abbiamo anche Cactus. No, no, no. Che sei Cactus, io smetto veramente, no, smetto intendo, giocherò tutta la notte con lui. Come si chiama su Instagram Cactus? È entrato, giochiamo. Simone Basilice. Un attimo solo che lo aggiungo. Chi è, chi è, chi è, Simone che gioca? Eh, vabbè, io partirei allora, dai. Parti, 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 partiamo. Mettete pronto, mettete pronto, Cristo di Dio. Anche se non sono pronto? Metti pronto, anche se non sei pronto. Ci tengo a dire che io non mi sento pronto, però metterò pronto per il benestare del pubblico. Grazie. Oh, non mi sembra vero. No, sì, mi è crashato il gioco. No, non ci sono. Dai, sì, questa è la mossa del fazzone, dai, ci sta. Ma scusate, adesso c'è un problema, sono serio. Ma che devo fare? Ma abbiamo fatto squadra io, Mario, Billy e Deluxe e il tizio è da solo. Eh sì, hai detto che era forte, scusami. Io ribadisco che lo sei. Ma perché, ma perché, ma perché non devi fare, vabbè, io mi sono fidato, eh. Ma Mario, ma tu sai che devi fa? No. Mario, fai qualcosa. Ragazzi, allora siete tutte e tre soli. Cosa? E come si gioca? Mario, fai qualcosa. Mario, tu sei il vermiciattolo che si muove. In questo caso si chiama Boggy. C'è una freccia comunque. Esatto, tu puoi muoverti. Ok. E dopo hai un inventario pieno di armi. Devi uccidere tutti i vermi tranne quelli rossi. Ok. Tanto finirà per uccidere solo i rossi, ne sono più che certo. È il problema che sono i miei, quindi. Oddio, ho preso il carro armato. E adesso puoi sparare. Mario, stai mirando a quello rosso. Però Mario, sono rossi a destra e a sinistra. Quello lì è blu, quello di fianco a te. Sotto di te, sotto di te. Ok, ora arrivo. Bravo. Bella mo'. Spara, non è proprio male. Tu sai giocare, Mario. No. Mario hai 4 secondi. Tu mi prendi per il culo, Mario. Mario ha 4 secondi. Mario, Mario. Pocca troia, come hai fatto? Minchia, l'ha sderenato. Vabbè. Ah, ma è il mio? No, tizio, adesso è il momento. Ma no, è il mio, ho guardato, ho visto. Allora mi sa proprio che è il tuo. Allora, è Gubbio. Ma come è Gubbio? Gubbio, Gubbio. Come si gioca in questo gioco? Io non ho mai giocato a Wars. Ma come non hai mai giocato? Come non hai mai giocato a Wars? Ma ragazzi, eh no. Porco il signore, mi sono praticamente quasi suicidato. Ah, perché ci si può suicidare? Eh, Mario... Non è una pratica che vuoi applicare. Ok. Ma perché ci sono tanti personaggi? Tizio qualunque. Perché ci sono altri che giocano. Allora, Tizio, tu segui il verme. Ma vabbè, ma che ti spiego? Sei già tutto, dai. Sei già tutto. Quello che è davanti è Ron, eh. Io lo toccherai. No, non aiutatelo, che ci spacca il culo da solo, dai. Ma chi è che sta a giocare? Tizio qualunque, Tizio. Allora, io prendo questa e la tiro. Guarda. Tira la dinamite, vai. È una bella mossa. Soprattutto se si incastra nella montagna dove c'è Jules. Tira la dinamite, vai. Tira la dinamite. Lancia dinamite, dai. No, perché ho lanciato la mina? Non valla. Eh, però, questa è una mina di prossimità. Vai, vai. Bello. Il problema è che non andai tu. È lì. E mi dirà alla. È morto. No, era per vedere come funzionava. Ma sei morto. Ma era fortissimo. Credo tu ti sia buttato sotto. Vabbè, era per così. Era l'importante partecipare. Ma non abbiamo forse messo qualche verme di troppo? No, ma io non so che ho messo nei comandi. Ho sette, ho sette, vabbè. Ma è stuccato qua sotto. È stuccato qua sotto. Ma non ci credo. Sono stancaganciato sotto qua. Ma non puoi neanche... Oddio, ti sei incastrato? Vabbè, ma sì. L'unico che è buono di giocare a qualcosa in questo gioco è lo scammano. Ecco fatto. Trita tutto. Dove vai? Da che parte vai? Sai che mi sa che non puoi attaccare con quello, ma... Lascia fare, lascia fare, lascia fare, lascia fare. Vorrei guardare i comandi. Vabbè, ragazzi, ma cosa sto guardando? Oddio, potresti andare anche sotto, effettivamente, per aprire un canale. Ah, tu rimani sotto a Francesco. Ok. Adesso tocca a... A Billy. Purple Light. Billy. Eh. Tizio a conoscenza. Billy, tasto destro del mouse, selezioni nell'elenco delle robe e le cose che puoi usare. Ok. E poi con spazio le usi. Quindi tu, io ti direi, direzionati verso Boggy che è a sinistra. Anzi, fai una roba. Cammina con A e D, puoi camminare, con Wazd. Con D, spostati verso quel fuel lì a destra. Solo io precipisco mansplaining in questo momento. Chiedo. Sono lui. Ok, scusatemi. Non sparerei a un barile, Billy. Si sta sparando contro il barile e si fa dei danni da sola, giusto? No, no. Lo esplode e fa effetto riverbero dopo. Come si fa a saltare? Come si fa a saltare? Ragazzi, è suonato un telefono. Non vorrei mai che a quest'ora sia successo qualcosa di urgente. No, ho perso il turno, porco due. Eccomi. Adesso ci sono e non c'è caso. Billy, con... Dì la verità, tizio. Tu lo sai che quando rimane solo uno è più forte il verme, vero? Eh, no. Ah, ecco perché ti sei ucciso di proposito. Non lo sa lui. Lui non lo sa. Eh... Come si mira? Eh... Con il mouse. No, con WS dopo che hai selezionato quello che ti serve. Ok. Lì sai cosa puoi fare? Puoi tirare un cazzotto. Ah, vero? E cade? Sì. Si va a letto. Go! Aveva funzionato. Ma in mare hai eliminato sempre, giusto? Sì, è emerto il tuo verme, Mario, eh. Era il tuo quello. Tocca a me? Ah, era mio quello. No, per dire che... Hai un altro proiettile, tizio. Per questo puoi giocare ancora. I due proiettili. Me lo so. Quello era il colpo di avvertimento, era... Sì, sì, adesso... Adesso ti ammazzo. Chi è dentro si è arrabbiato molto. A chi do? Che a me? Mi sa... No, mi sa... A Dellu. Ah no, tocca a te, sì, probabile. Sì. Cos'è questo? Sì. Ok, sei nascosto in un bunker qua, Mario. Oh, il coassiacottero. Puoi scegliere che cosa fare qui dentro. Come si salta? Con lo spazio. Non puoi saltare, sei un verme. Non mi fa saltare. Ma sei un verme, che cosa vuoi saltare? No, ma puoi saltare. Mario... Mario. Sì? Lì sotto l'unica cosa che puoi fare è utilizzare degli utensili per uscire dalla caverna. Esatto. Sennò sei fottuto lì. Esatto. Ok. Quindi tasto destro del mouse e vai nell'elenco. E scegli tipo la torcia. Sai, quelle che ti fumi. Drogato. Lasciami stare. Allora ti droghi veramente, aveva una ragione sulla coca in stanza. Quindi non si... Ah, ok, ho sparato. Questa è una bella idea, Mario. È un modo molto strano. È un modo un po' strano di uscire da una caverna, ma è un modo. Tocca a Franco, ragazzi. Si stanno esibendo i negra mara adesso? Ah, mi dispiace. Ragazzi, ma grandi. Io adoro l'ultima loro canzone. Quella tu conosci Claudia. Non l'ho ancora sentita. Senti come Trajarda, quell'altro. Siamo a Sidriga, scava i tunnel, ok? Ascolta, ma se ti lancio questa pecora cosa succede? Devi farla esplodere nel momento giusto, però sì. Allora sai cosa c'è? È una girandola che ruota intorno a me. Ciao ZTB! Ma tanto qua mi uccidi poi tu. Veramente no. Un po' meno. Credo che tu poi mi uccida, sì. Sì, morirò. Morirò. Eh, grazie. Che cazzo gli ha dato gli artiglieri al tizio qualunque? Lo lascia fare. Eh, ma guarda che tu stai ancora nel carro comunque, eh, Marione. Tocca tizio, trooper. Non vorrei parlare, dici. Tocca trooper. Allora. Chi è trooper? Ma noi siamo in squadra tutti quanti contro il tizio qualunque? No. No. Siamo verdi. Come sì, no? Verdi contro blu contro rossi. Che bella scelta. Del cacchio. Beh dai, non è male. 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 Non è male scelta di merda. No, no. Non è vero. Sembra eccessivo adesso. Scusi. Lo conosce a Pony contro Billy Belle e Deluxe contro tizio qualunque. Esatto. Tizio è da solo perché è top 30 mondo. Ok. Ma veramente? Ma sì che è vero. Ma secondo te te lo dirà mai. Chi è che tocca? Questo sei tu, Pony? Sì, sono io. Dove vuoi andare? No. Non sono in squadra. No, Pony, perché ti stai facendo salto? Eh, perché purtroppo non va con lo spazio. Vabbè. Pony? Goto. Mattiamo, ci perdiamo, eh. No, in realtà il danno che ho fatto loro è di più. Il problema è che non andava al salto. Stiamo perdendo se tu. Ma il salto come si fa? Con lo spazio? No, infatti non è con lo spazio. Fa vedere il salto. Billy, tocca a te. Fammi vedere anche a me. Ma perché vado a fatto? Ah, con ritorno. Backspace. Ritorno. Ma che cazzo è? Non ti può stare con lo spazio. Ritorno è una mossa di tipo normale, 102 power, che se Max ha l'amicizia fa un botto di danno, di tipo normale. L'ha impara a Snorlax, aumentava l'amicizia. Oddio, ma cos'era quella cosa lì? Era tipo sborra? No, non penso che ci sia questo. Eh, sì, era proprio sperma. Ma l'ha rovinato! Ho messo malissimo. Sì, era proprio sperma. Tu cosa, cioè, io non, vabbè. Ah, ma tocca a me? E chissà. E chissà. Eh, a me sta soltanto caricando. A me anche. Eh, sì. Ma non è che sei buggato? Ma sei buggato? Godo! Ragazzi? Ma come God? Ragazzi, sei buggato. Ma voi vedete qualcosa? No. Io sono fermo con 14,2. E io vedo i secondi che vanno. Eh, ma mi ha perso il turno io, così. Vediamo. A me non sta a me. Ah, tocca a me. Ok. Ah, niente, ha saltato il mio turno. Ha saltato il mio turno? Sì. Vabbè, fai niente. Aspetta, ha giocato Billy adesso. Wave, Clarissa. Allora è giusto che non tocchi a te, perché Deluxe gioca uno per turno il colore. Eh, no, no, ma... What the fuck? Ok. A me aveva fatto vedere che era il mio turno. Eh, vabbè, è un buggone. Cosa? Minchia, quella pepecora. Questa è stata una gran mossa. Cosa? No, mi sono fatto fuori da solo. È stata una mossa un pochino scema. Però, alla fine, è stata dannosa anche per le altre squadre, tizio. Quindi so che tu sai che questa tecnica si chiama la Heltermation. L'ho messo a giro. Ah, davvero? Sì, sì, lo so che lo sai. Sì, fai finta sempre di niente, però va bene. Quindi, va bene, è glicciato. Adesso ti vengo lì e ti piglio a calce. Sì, sì, va bene. Però che faccio? Io non posso saltare. No, Mario, non saltare perché mori. Mi dicono due volte invio. Per saltare. Sì? Due volte invio. Mario, io ti faccio una domanda. Tu, adesso, ti penti di averlo fatto? Sì, certo. Vedi? Vabbè, l'importante è che hai compreso l'errore. Dai, ci sta. Non pensavo che facessi... Merda. Ma siamo rovinati. Ci stanno distruggendo. Allora, tu stai perdendo perché sei ultimo. Io so terzo. No, siamo in squadra insieme. No, 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 no. Vai mona, dioca. Vabbè. Non distruggere me, eh? Eh, occhio perché siete di squadra insieme. Eh... Vabbè, ma... Che mira di merda. Ma si chiama Drodd Thunder, questo? Drodd Thunder? Eh, sì, sarebbe... Dread. Eh, perché il fulmine... Il fulmine. Dread Thunder, certo. Il Vez. Guarda che veicolo. Ciao, Vez. Merda. Collabo con... Oh, tocca Iros. Vediamo se... Vediamo se vede la giocata stavolta il tizio. Oddio. Eh, Francia, ti posso consigliare una roba? La pecora di prima, se ne hai un'altra sarebbe, secondo me, in Italia. Eh, no, le ho finite. Cazzo. Mettili a pecora tutti. Forse la puoi creare, però, eh? Se vai in creazione. Non penso che... Vabbè, adesso farà più di non sapere, dai. Ah, sì. No, non so come si fa, non so come si fa, sì. Torino. Sto facendo la rotellina, vabbè, nel frattempo. Ma in che senso è crollato il Mugeo Egizio di Torino? No, non è vero. Ah, godo. Quello chi è? Poli o Mario? Eh, lo scopriamo tra... Beh, questa... Last Man Standing... Allora, ha più rincuno di quello che credevo. Lo sapevi che adesso il tuo ultimo verme ha il 200% di danno, eh? E si fa sempre la One Hero Technique. Ok, complimenti, capo. Grazie, grazie. Vediamo come vanno le cose. Non è che pezzo di merda. Vabbè, non infierite... Attenzione. Questo potrebbe essere un bel cazzotto che arriva, eh? Vediamo come va. E mo? Fammi vedere? Ah, fammi verificare. È vero, si salta con invio. Ma io l'ho spostato su G, l'ho spostato. Quindi quando mi hai detto di farlo con Space è perché mi volevi trollare perché si usa l'oggetto con Space. Quindi mi salta il turno? No. Perché pensavo si saltasse. Ah, ok. Secondo me non muore. Non ci posso credere. Questo è un bel buco del culo, ragazzi. Questo è un grande buco del culo. Non posso credere. Grazie. La giocata più bella di oggi. Però vabbè. Che cazzo. La devo giocare da dove? Eh, te lo dice lui. Ah. Ok. Prendi queste, brava, brava. Prendi queste. Bellissimo. Ah, noi non vediamo cosa hai preso. Pazzesco. Pestalo. Grazie mille Reppe per i 13 mesi. L'anno più importante è più uno. Va bene, caro. Grazie a Name. Pesce. Mio padre, il pesce. Grazie per la gift. Grazie a Bistis per i 14 mesi. Bentornato Bistone. Grazie mille a Lori Lazze per il quinto mese. Bentornato Lori. Grazie mille a Tommy per l'ottavo mese. Amore mio. Grazie a Cantalberto per il nono. Grazie ragazzi. Ma non si innesca, vabbè. Sì, è il mio sfondo Paolo, ragazzi. Verso l'u di lui. Ma devi farla esplodere quando arrivava lì. Allora, allora, lo sapete. Ma io pensavo facesse un altro saltino e si infilasse nel buco. Ma credo che tu abbia impostato... L'ha istruita, cos'è? Mi sa che hai impostato la modalità curse. Prendi la pecora, va sott'acqua e come curse c'è quella maledizione della prima luna. Diventa non morta e esce dall'altra parte del mondo adesso. Voglio farmi la stessa droga di cui si fa Mario. Io non so Mario. Io la Roma Santa penso che sia tipo la... È una pessima idea. Voleva far fuori me, però non mi ha fatto fuori, cazzo. Tizio ha usato il suo... Tizio è morto. Volevo andarmene, ma con stile. Minchia. Ah, ok. È arrivato il chip, eh? Adesso arriviamo al game. Ma quando cazzo tocca? Cosa? No, no, eh, si stanno facendo saltare la vita. Muoiono, quando finiscono la vita si esplodono. Comunque ho come l'impressione che Jed's End, lì sotto nella caverna, vivrà a lungo. Mario, mi fai la cortesia. Questo, fai qualsiasi cosa ma non farti danno. Questo è un pessimo inizio per non farsi danno. Aspetta, aspetta. Fiamma ossidrica? È un'ottima idea. Fiamma... Magari... Fiamma ossidrica. Sì, Mario. Fiamma ossidrica? Perfetto. E adesso pu... Mario, però non... In verticale non funziona la fiamma ossidrica. No, cioè, devi appoggiarti a un muro per farlo, Mario. Se lo fai in aria, dopo un po' capisce che non va. E si blocca. Penso che di aver saltato il danno con... Il danno con fiamma ossidrica. Sì. Penso che tu l'abbia anche bruciata. Oh, merda. Ma questa è la partita trittile per me. Andiamo a mettermi vicino alla parete. Ma posso fare altro? Si fa lo show you can. L'ha fatto veramente. Ahia! E c'è tu! Dovevo allontanarlo, insomma. Ce l'ho fatto un cazzo. È una cinquantina di danni. Tanto, quaranta di danno è tanto. Ma è schifo. No, no, Mario è nato proprio così. Non è che c'è un... Che cosa ho fatto? Niente, nanni. Niente, niente. Non hai fatto niente. Sì, va bene, anni Dario. Non sai nemmeno il mio nome. Non riesci a farlo nemmeno col secondo tentativo, tizio. Adesso... Che desolazione. E come mi chiamo io? Francesco. E poi? Il cognome? No, vabbè, lascio a perdere. Vedi che io lo so come... Porca puttana! Porca troia! Ti chiami Francesco Gastaldo, no? Ho 7. Ho 7. Mi ha sderenato! Sono sparito dalla mappa. Ma mi hai ammazzato. Ho 7. Vabbè, ma non è che è proprio un problema. Si va a letto. Billy, 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 Billy. Depp, forza! No, no, Billy, salta prima a destra! Vedi quella cassa di A3, si prendila. Ok, adesso torna indietro. Si va a fare un sonno sotto le coperte? No, ha scritto Dario Moccia! Finalmente libero de... Poli, sei pronto alla sauna? Si va a letto. Sta arrivando, sta arrivando Dario, Mario. Non credo... Fallo esplodere, Billy. Fallo esplodere. Sai cosa puoi fare? Bomba santa e poi te ne vai. Eh, ma non ce l'ha. Gli fai un cazzo. A meno che non l'abbia presa prima, non ce l'ha. No, è vero. Perché la tizia l'ha presa dalle scatolone. Ah, l'ho presa dalle scatolone? Oddio, un piccolo ora di A3. Billy, ce l'ho preso a fare io, Billy. Eh, però è una pessima idea. Eh, no, dai, è stata buona idea. Abbastanza buona, dai. Sì, dai, funziona. Poco poco niente, però meglio di no. Gli ha dato dello scemo. Mario, tra un po' tocca a te. E adesso, intendo. È il tuo ultimo verme. Ok. No, no, allora. No, non avvicinati al muro. Mario, muoviti con D. 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 La D. D. Breve. Adesso punta verso il basso. Un pochino più verso il basso. Un po' più, basta. Un po' più verso orizzontale. Bravissimo. Adesso D. Vai. Premi. Spazio D. D, spazio. D. Spazio D. Vai avanti, vai avanti. Bravo. Puoi anche andare sopra se vuoi, eh. Ti puoi girare. Vabbè, ormai. Questo è un ottimo inizio, però. Bravo, Mario. D. Perfetto. Non posso fare niente. posso dirlo. Scavato buco, effettivamente. Ciao, mambe, grazie. Eh, Mario, mi rispetto a quello che ho parlato degli altri, te lo dico sempre. No, scusami, scusami. Tocca Gubbio. Ma poi esplode questo? Devo fare boom? Per forza. Eh, dai. Boh. Ma perché? Fai una bella bomba a grappolo, via. Eh, ma ci sei anche tu dietro, eh, occhio. Io lancerai Grazzo, esatto. No, no, là, Razzo. Fai un sacco di danni anche a Gavin. Beh, Gavin non me ne frega un cazzo. Ma vantene a fa' il culo. Vabbè, è un lucky. Andata così. Oh, là. Ho detto. Un po' forse di esplosione arriva anche a Gavin, ma molto meno. Merda, guarda, con due. Corco Dio, questo è culo. Ah, invece non è culo, mi sa. Questo è culo. Questo non è culo. Ma si mette una barata in bocca, perché? Anche la pecora poteva andare. Vabbè, raga, è perfetto. Vabbè, vabbè, siamo salvi noi qua sopra, dai, va bene. Meno salvi in questo contesto. Decisamente meno salvi. L'unica roba è che non c'è un cazzo. Bravo, maia. Così si faceva, Billy? Ma fa un cazzo di danno la pega. Lo faceva un botto di più negli altri worms. Secondo me la non era fatta. Faceva 65, è come la dinamite. Ma hai detto... Ho sbagliato. Oddio, ho fatto un casino! Ma questo è un massacro. Mi sa che spacca anche l'elicottero, no, no. Billy. E invece sì. Billy. Questo è... Brutto. Ma io pensavo che... Ma cosa pensavi, Billy? Beh, ma pensavo che si saltasse con spazio. Ma in quale cazzo di gioco si salta con l'invio, dai! Ma cambiano e mettilo a posto della G, no? Mario. Ci sono, eh. Mario, fai quello che vuoi, ma non morire. Perché tu sei la risorsa irraggiungibile. Ah, c'è la super pecora. È per quello che non fa più costante. Bene, a posto così, Mario. Quando è morto, tizio? All'inizio della partita, ragazzi. All'inizio, all'inizio. All'inizio è morto tizio, capito? Ho fatto la rima. All'inizio qualunque. Bella, all'inizio qualunque. Vero? Non mi sembra bella per niente. Mario, non ti permettere mai più, eh. Scusa, tizio. Qualunque. Oddio. Cazzo, fate le porte. Ah, va a prenderlo. Allora, Mario, nei tuoi turni dovrai menare molto forte il ronolloide. Ok, ok. Come? Come? Tutti i vermi che non so te. È come dire umanoide, però, come Ron. Lui è... Dici. Ho capito. Allora. Par play, par play. Ho già risposto. Mario, una voce un po' nasale. Come la mia. Eviterò. Go. Oh, poli, poli, poli. Dove vai, oh? No, vuole fare un altro Omran. Sì, 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 vuole fare un altro Omran. Ma vai a fare in culo la puttana della madonna. Eh, vabbè, forse il cazzotto era meglio, eh, poli. Pensavo rimbalzasse, sei incastrato giusto. Ho paura che il cazzotto andasse verso l'alto e non verso sinistra. Però va bene, dai. Posso usare la macchina? Eh, 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 eh. Porco Dio. Questo era, non era eh. Questo non è eh. Ma se hai appena scoperto con un omicidio-suicidio che la spazio ti fa partire la roba, ma perché lo rifai? Ma ho fatto invio, solo che poi hai schiacciato anche spazio. Ma perché hai premuto spazio-invio? Mario, equipaggia. No, 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 Mario. Shotgun. Mario, premio spazio. Mario, premio spazio. Mario, premio spazio. Fucile. E avvicina e spara. Non vicinissimo. Bravissimo. Adesso, inclina un po' verso il basso. Ancora un po', ancora un po'. Ancora un pochino. Ancora un pochino. Bene, adesso avvicinatemi un po', così è più facile che lo colpiamo. Basta, basta così, perché sennò c'era in culo. E spara. Perfetto, adesso ti avvicini ancora un po'. Hai sparato Ron, eh, Mario? E spari. Avvicinati. Mario hai sparato Ron. Adesso, inclini un po' in su. Inclini un po' in su. Mario spari Ron, Dario non torna più. Ok, spara. Dario non torna più. Perfetto, spara. No! Oh, madonna, schifoso il Dio cane. Adesso andiamo dentro il tunnel, Mario, eh. Oh, io vado di bazooka, va bene? No. È finito il turno. Ah, mi è finito il turno. Comunque sia... Va bene, dai. Cioè, non è vero che va bene, però... Siamo rovinati, vero? Possiamo pensarci. Ma questo è un pro player, ma l'ho visto due volte sto jetpack. Cazzatone! Ah! Via che esplode, via che esplode! Ahah, 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 nella trappola, z. Eh, questo è un grave problema. È un grave problema. Quella linea non è simpatico. No, però battendo un po' lo copiave. Ah! Cos'è l'ascolto vocale? Non c'è niente. Scusatemi per stasera. Io alle quattro e mezzo l'ho avviato live, non ho visto quel gruppo e non avevo ancora deciso nulla, quindi cinque e mezzo. Che cazzo ore era? Vedevo che stavate ancora... Hai sentito? Sì, Mario, ma non so se bisognava se farlo sentire in stream, onestamente. Ah, perché era su Discord. Ah, scusa, Mix. Ah, non ha detto niente di che, giusto? Boh. Cosa ha detto? Non mi ricordo. Ha detto Sandro. Ok. Ecco. Ecco fatto. Mi fa saltare. Eh sì. Ma mi sa che salta anche lui. Non è vero. No, vabbè. Stavi per volar via. Eh, ma non fa, fa 45. Se non toglie 50, no. No, va 45 se ti prende precisa. La mina. Mario, il prossimo turno devi... Sì, ci sono io. No, non tocca a te, tocca a Deluxe adesso. No, no, tocca a Billy, tocca a Billy. Toccherà a te dopo, Mario. Dovrei uccidere quel verme. Billy, non usare il cazzo di spazio, Billy. È vero. Billy è il tuo unico verme. L'ultimo. È sì. Billy, tasto destro e prendi il jetpack. Esatto. Ma te ne con gloria, Billy. Esatto, ottima idea. Era questo il jetpack? Sì, sì, si vede. come fai a confondere una miliuzzi con un jet volevi scavare una fossa volevi infilartici così non morivi Mario fermo fai due volte il tasto invio per salire sulla sporgenza appena sopra di te ma tocca a me ora si Mario ti stai muovendo tu ma nemmeno un cazzo porto pazienza girati adesso premi invio e di fai un salto verso destra scusa se io prendo un po' verso il basso mira verso il basso ancora un pochettino si su alza no 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 Mario torna indietro torna indietro mira e spara però questa volta mira un po' più basso mira un po' più basso bravissimo un altro po' è morto al primo round un altro po' un dettaglio adesso Mario non incolli in mazucca Mario hai equipaggiato sono morto? eccoci si Mario no non è vero non sei morto Billy devo salvare la tua vuoi salvarmi? va bene Mario tranquillo ok scusami ma no non preoccuparti sono più altissimo col signore è però delus ah quel vermelì è un problema non posso andarmene ragazzi che scelta di merda esplodi esplodi va te con orgoglio almeno hai salvato me mi mangerò una focaccia no Poli non farti esplodere per favore si ma è una badima idea melda Mario tra un po' toccate tocca a me no non ancora tra poco adesso tocca a Billy credo ciao Terrone bella cosa? no scusate dicevo no ma per te che è un nome comunque e clarissa adesso il jetpack è quello con una fiamma è questo brava dove cazzo vai? aiuto no Billy Billy ti sei suicidata ma come mi sono suicidata Mario per l'amore della madonna Mario adesso no stai fermo ok ok adesso premi devi premere il tasto invio che non è spazio invio Mario così morirai ok invio? no Mario no spostati verso destra ok perfetto ora vai nelle armi e cerchi il fucile a pompa fucile a pompa credo ho soltanto il fucile allora può andare bene anche il fucile ora punti un pochino più bazzo ancora un po' ancora un po' credimi ancora un po' adesso spara oh godio ho sbagliato è la seconda volta che mi dici di sparare e che faccio liscio allora punta un pochino più verso il bazzo ancora un po' e poi oh visto? ma adesso mi batterà lui adesso lui se ti batterà morirà quell'altro tranquillo tipo scaccomato preoccupati va bene io non so giocare a scacchi no neanche a Worms comunque ma hai detto che ero il campione del mondo il solo fatto che Delus mi abbia creduto e ti abbia messo in squadra da solo la dice lunga cazzo perché non dovrei fidarmi scusi eh giusto giusto però sto bravo a te dè dai noia signore di Dio Gesù eh due culo vabbè ma che te frega tanto aiuto godo ma io posso ancora vincere se tu vinci Dalu vero? eh no sì devi ti fare per me Mario sì non è vero bisogna fare una giocata per vincere allora tu mi dici quello che devi fare e che devo fare e io lo faccio il fatto che tu abbia fatto questa citazione così mi fa sperare che siamo proprio nella merda ok bravo ok ok scusami allora Mario adesso io farò una cosa dai è uno contro di noi oh cazzo che sta facendo però per l'amor del cielo devi stare attento dopo perché se no è finita ok 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 perché adesso lui tocca all'altro credo forse ho fatto una cazzata visto che sono in minoranza numerica vi posso chiedere come far esplodere una pecora? tocca a lui abbiamo perso il loro Mario e premi spazio quando è in volo ok ma tocca a me ancora ok spazio ora no non sei tu Mario è lui io non posso scusare non posso muovermi oddio ma che pe... era una pecora diversa questa zi è la nonna abbiamo perso finita è la nonna DG DG c'è tutta sopra e mezzo di attesa per dire così DG sai perché questo? perché Poli da buon amico si è fidato di Mario può essere o forse se non si fosse fidato di Mario non sarebbe o forse forse era convinto che toccasse al verme in alto a sinistra e quindi ho detto tocca a quello non in città e invece ho sbagliato è andata comunque un applauso a tizio colunque che ha vinto il premio veloce grazie grazie penso a morire però veloce è vero il premio veloce è devastato però è comunque non sono molto orgoglioso di questo premio ragazzi che dirvi che è stato un piacere fare questa improvvisata vorremmo poter dirti lo stesso ringrazio Dani no tizio parco 2 grazie Dani io quando volete ragazzi mi diverto e mi fa piacere grazie Billy grazie tizio grazie a voi si va a letto a me non mi hai ringraziato si chiama Sandro si chiama Francesco non Sandro come Sandro vuole dire tizio hai detto tizio hai detto tizio hai detto Sandro tizio hai detto tizio ma lo ho detto pure prima quando ho detto non mi hai salutato scusami non l'avevo sentito Mario no ragazzi un'altra ora e mezza così non me la faccio no 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 è interessante ragazzi vi ringrazio e buona serata un abbraccione ciao 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 ciao